ciao ragazze ciao ragazzi come state come va tutto bene bentornati o benvenuti sul mio canale allora oggi vi voglio parlare come avete letto sul titolo vi voglio parlare e vi voglio mostrare un prodotto di un brand con il quale ho avuto il piacere di collaborare e sono veramente soddisfatta e felice di poterlo condividere con voi perché quando trovo un prodotto di qualità ad un prezzo conveniente quindi restiamo sempre sulla linea del low cost che io amo ho veramente un immenso piacere a poterlo condividere con voi l'azienda in questione si chiama zinf è un sito che vende occhiali professionali online quindi occhiali montature e lenti professionali online il sito è www.zinf.com troverete naturalmente il link in infobox allora questa azienda vi leggo qui quel cosino ho preso qualche appunto tratta occhiali da donna occhiali da uomo occhiali da sole e gli occhiali con le luci blu quelli progressivi e gli occhiali fotocromatici loro mi hanno dato l'opportunità di scegliere un occhiale appartenente alla categoria del blue light blogging naturalmente vi lascio il link degli occhiali che ho scelto e che adesso vi mostrerò è un'azienda che mi ha colpito particolarmente per la precisione e anche per la rapidità con il quale sono arrivati gli occhiali ben custoditi ben confezionati e loro trattando anche appunto occhiali per diverse diottrie ti danno anche la possibilità attraverso un foglio di prescrizione che loro allegono all'ordine di poter anche indicare quelli che sono i gradi che voi mi mancano addirittura di poter allegare anche una prescrizione medica in modo tale che loro possono costruire appositamente per voi gli occhiali allora l'azienda appunto che ho detto che questa un zif il pacchetto è arrivato il cello fanno quell'esterno l'ho buttato il solito la solita busta dei pacchi e c'è questa scatoletta bianca che io ho aperto naturalmente gli occhiali li ho già provati mi ci sto trovando veramente bene ma ho conservato tutto per mostrarvi appunto la cura con il quale questo prodotto arriva allora c'è all'interno aspettate che lo esco devo romperlo un pochettino allora ecco qui ci sono degli sconti e un libriccino e poi la scatoletta si presenta in questo modo guardate quanto è carina con questo che appunto potete tirare fuori la scatoletta e all'interno trovate gli occhiali ok sono tutti eccoli qua questi sono gli occhiali con anche la pezzina devo dire abbastanza resistente che non graffia assolutamente le lenti è utile per poterle pulire e quindi appunto le lenti si presentano in in questo modo allora io ho scelto questi che sono molto semplici dalla forma diciamo comune perché è una forma comune e però li trovo davvero molto raffinati molto sottili e molto eleganti soprattutto curate cioè sono davvero curate nel dettaglio loro utilizzano del dei materiali in policarbonato appunto motivo per cui sono abbastanza leggeri e anche facili da pulire danno una garanzia del prodotto di un anno quindi avete 365 giorni per quanto riguarda la qualità del prodotto e 30 giorni di garanzia sulla vestibilità e lo stile degli occhiali cioè se vi arrivano voli indossate e non vi convincono particolarmente non vi piacciono particolarmente avete 30 giorni di tempo per poterli cambiare una cosa fondamentale che voglio dirvi prima di farvi vedere come mi stanno gli occhiali è che diciamo per voi un codice sconto che sarebbe il 50 per cento di sconto sulle montature e il 20 per cento di sconto sulle lenti digitando il codice flow naturalmente ve lo sparerò qui in sovraimpressione vi metterò tutte queste informazioni anche in infobox ma adesso non ci resta che provare i nostri occhiali e sono questi cioè sono veramente veramente carini eleganti fini sottili raffinati cioè la montatura sembra davvero brillare da sola forse sono leggermente grandi per il mio viso però devo dire che non mi dispiacciono anzi fatemi sapere voi come li vedete come mi stanno però ecco io li trovo veramente veramente graziosi cioè la linea mi piace davvero tanto potete scegliere la vostra tipologia di montatura e le vostre lenti perché sul sito trovate veramente una vastissima gamma di articoli quindi andate a scegliere la sezione che vi interessa se uomo donna o se volete occhiali da sole e poi si aprirà appunto tutta la pagina con un elenco veramente abbastanza vario e tante immagini su sugli occhiali vi mostrano anche come stanno addosso alla alla modella quindi più o meno vi potete rendere conto anche diciamo della di come sta l'occhiale sul volto sul viso di una persona sono davvero molto soddisfatta di aver potuto provare questo articolo e poiché oggi gli occhiali sono indispensabili per la lettura per chi non ci vede da lontano per chi non ci vede da vicino e se insomma vi fate un po anche un giro nel nelle ottiche certamente i prezzi non sono bassi ma non lo sono bassi neanche di questi ma rispetto a quello che c'è sul mercato devo dire che sono dei prezzi molto competitivi e soprattutto sono prodotti di qualità quindi potete puntare sulla qualità spendendo meno oltretutto digitando sul vostro canale il codice flow avrete anche lo sconto e quindi potete approfittare di questa occasione io vi ringrazio per aver visto questo video e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti per sapere che cosa ne pensate come mi stanno e fatemi sapere se andrete a scegliere qualche occhiale e quale avrete scelto sono molto curiosa vi fa veramente piacere sapere se in qualche modo vi sono stata utile ecco tutto qui ringrazio appunto l'azienda per la collaborazione cercherò di mettervi tutti i riferimenti e in sovraimpressione e in infobox in modo tale che voi avrete un quadro completo della situazione vi lascerò anche il link di questi occhiali che che ho scelto che ve li mostro ancora da vicino cioè sono veramente veramente top io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima ciao